Icona del varietà televisivo anni 80, Theater Parisi ha vissuto mille vite. La prima in California, tra Los Angeles dove nasce, il 27 gennaio 1960, e Sacramento, dove vive con mamma Anita Parisi, di origini italiane, e la sua seconda famiglia, papà Norman Verbi lo conoscerà a 28 anni, ndr. La passione per la danza la porta prima a San Francisco a 13 anni e poi a New York dove studia nella prestigiosa Accademia dell'American Ballet di Mikhail Barisnikov. La seconda vita è in Italia, quando ha 18 anni, mentre si trova in vacanza in Italia, viene notata dal coreografo Franco Miseria. Nonostante un provino stile flash dance sulla scrivania di un dirigente rapi, Theater convince tutti e arriva in tv con Luna Park a fianco di Pippo Baudo. La consacrazione nel 1979 con la prima edizione di Fantastico condotta da Loretta Goggi e Beppe Grillo, e una sigla d'apertura disco bambina diventata leggendaria. . Nella seconda edizione dello show presenta Cicale. Il resto, è storia, punto oggi la ballerina vive a Hong Kong, con l'attuale compagno Umberto Maria Anzolini, sposato nel 2013, e da cui ha avuto nel 2010, a 50 anni, i gemelli Elzabeth e Dylan. . Ma nella vita di Theater Parisi ci sono altre due figlie. Rebecca Gevel Manenti e Giacqueline Luna di Giacomo. . 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